Detmatch a squadre. Le forze speciali non hanno scampo. Soldati. Minaccia rimossa. Uccisione. Siamo avanti noi. Conte confermata. Spectre è morto. Mina Seeker pronta. Tacco il versante. UAV pronto all'uso. UAV in zona per fornire sorveglianza aerea. Vimco in tiffo. 1-8-0-1-0-1-0-0-1-0-0-0-0-0-1. Bersaglio a terra. Squadra di droni in posizione. Mina Mesh in sicurezza. Elicottero onesto in attesa giurta. Roma di movimento. UAV pronto. Elicottero onesto alle coordinate richieste. Spiratori in più posizione. Tempest pronta a fardare. Nemico cancellato. Tempo UAV a 50%. Versaglio a scusare. Calcolo della traiettoria. Versaglio a scusare. Seeker pronta. Squadra di droni, livelli energetici a 50%. Ello cancellato. Provine rana di incazzo. Il versaglio è fuori combattimento. Serve un GU avvia le mie coordinate. Lancio un fologeno. Estraccolo la data. Lo scusare. Il respiroi ha scusato. Il respiroi ha scusato. Seeker disponibile. Mina Seeker attivata. Mina Seeker attivata. Morte confermata. Versaglio rimosso. Nomad sradicato. Nemico cancellato. Uccisione confermata. Sfodero la mia lama. Mico in vista. Sfogliare tazzico nemico online. Rifornimenti. Chi prima arriva, meglio lozza. Sfogliare. 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 Unità K9 neutralizzata. Ormai sono alla frutta. Finiteli. Sfogliare. 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 Mico in movimento. il bottino va ai vincitori i nemici hanno mine mesh mina mesh in sicurezza no ma ti immovile no ma guarda l'usso no poi ce n'è una peggiore scusa rosalba barbara d'urso e poi cazzo c'è un'altra che non me l'aspettavo te e dimmi e vai vai guarda abbiamo un fanatic che usa la moto con l'operatore quindi ti da un colpo se tu fai ho due colpi io ti ho pisato tu pronta per segnare eccolo e non ha nemmeno il mirino bello e beh guarda lo mando one shot e si butta a ripararsi i suoi alleati mi sparano mi uccido ok adesso lo pusho io non ci credo mi ha lasciato a 25 di vita perché mi ha sparato due colpi di corpo e una pistola adesso mi ha ucciso a questo merco queste sono le cose che rovinano con il beauty non potete mettere un gioco a 150 di mente e poi mettete una merda di pistola che one shotta a qualsiasi distanza non dimmi che dove e guarda belli fumogini dietro 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 eh sto scappando perché ero straguano uno star ok no ce l'ho dietro ma mi ha sciuttato con il mix 9 silenziato quando la squadra di droni è stata distrutta la squadra di droni è stata distrutta attivo il meccanismo di fuoco non ho paura non ho paura non ho paura non ho paura sto cazzo di tempo è smarrotto i coglioni porco dio non so più che specialista usare mi userò il cane anch'io almeno dio cane fa qualcosa io sto andando lo svuoto è totalmente qui minaccia rinforza spettro nemico eliminato spettro nemico identificato serapia pistola perfetto minaseker online no vabbè no vabbè dai fermo nell'angolo lui con la saug che bestia che sei spettro nemico il nostro segnale tattico è offline ringaggio il medico ostile segnale tattico nemico online marca identificata però è sopra questo tempest carica non so ti giuro non sto capendo niente sto solo capendo che sto facendo kill a casa che mi giro completamente a casa che mi giro completamente a casa qual'è il tipo? è massato? che sono senza anima di nuovo ecco va vai vai dai 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 non mi ammazzo più nessuno io no vabbè tranquillo qua due qua due tanto continuano a spannare al chat sono top top casa qua bella 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 si è stonati da me si è stonati da me dai 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 due top casa due top casa quello con l'ammozzo in modo operatorio top casa attento uno che stanno qua dietro la tua ragazza bravo no non ce la fai dai aiutati qua uno tanto per cambiare cazzo ma perché tu ogni volta che io senza anima 80 di buono se no non ce la fai ad arrivare prima senza anima 15 kg cazzo dio cane se sei arrivato in stancato guarda 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 che bella guarda 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 copiato vabbè oh vai andare con la mia vabbè dai abbiamo fatto alla fine due ore qui qui qui